I carabinieri di Agropole, gli ordini del capitano Francesco Manna, hanno tratto in arresto il pregiudicato Carmine Cerasulo, di 32 anni, resosi responsabile di resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, a bordo della propria tua vettura, ha urtato alcuni veicoli in sosse, dandosi poi alla fuga. Rintracciato in località Muoio, per aver arrecato l'issurba al gestore di un ristorante, opponeva resistenze militari che lo bloccavano con non poche difficoltà, conducendoli in caserma. Sceso dalla vettura di servizio, minacciava, oltraggiava e aggrediva gli operanti, venendo dichiarato in stato di arresto e accompagnato presso il proprio domicilio, gli arresti domiciliari.